ehi zio a parte la disavventura della macchina sei entrati nel bosco ormai siamo nel bosco da un'ora ma non si trova molto ne ho trovato ora uno lì e un altro piccolino qui questa zona qua è buona ecco un altro non è che sono grandissime però insomma meglio di nulla siamo ancora al castagno si trovano piccoli bisogna trovarli un po più grossi e qua è bello perché vedi si cresce sul muscolo in questo caso vediamo ragazzi guardatelo qui eh guarda eh eccolo si chiuso la camera in fretta un altro qui e dai ragazze finalmente ci si sblocca e dai oh con qualcosa di più grande guarda bello dove è messo bello dove è messo finalmente qualcosa di bello e qua c'è il suo compagno vabbè dai lo lasciamo via zona promettente zona promettente un bel rosso eccola andiamo si raccoglie andiamo andiamo si nascondono si nascondono maledetti si nascondono eh eccolo si raccoglie zio bellino si c'è bellissimo no 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 vabbè però bellino eh sì sì baciato dal sole un rosso ciccio devi vederli funghi no ma nel senso ciccio che mi dovevi me ne dovevi dare due no è lì uno uno sì no due quelli di prima anche questo è il divertimento vedi davvero dai non ci si lamenta oggi via vai con il suo gemellino bel ritrovamento c'è anche il suo fratellino eh sono un po' nascosti però trovate due qui vedete due qui ora si raccolgono via e ragazzi ho chiuso la camera in fretta questo qui ma questo qui quattro qui che spunta da nulla eh bravo 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 allora ragazzi la zona giusta ce n'è uno qui uno qui sotto un altro qui e uno lì dietro allora cominciamo da più piccolino e uno due tre e quattro ecco e scusate ragazzi ma ne ho trovato un altro qui avevo chiuso la camera troppo in fretta come sempre eccolo sicché con questi siamo a cinque sì andiamo via non c'è più funghi no non ce n'è non ce n'è non ce n'è non ce n'è Gianluca non ce n'è zio sbrigati che poi finiscono vedi allora uno due tre quattro uno due con il fratellino aia con il fratellino che lasciamo e questi due eccoli qua voglia che castagno zio guarda lì tac u lì bu ch bu 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 Grazie a tutti.